8 marzo, l'amministrazione comunale di Badolato, impegniamoci tutti per un futuro inclusivo. In un mondo che abbraccia la diversità e promuove l'uguaglianza, il rispetto per le donne e il pilastro su cui si erige, una società equa e giusta. Ognuna di noi porta con sé il potenziale di contribuire in modo significativo al progresso, arricchendo la comunità con prospettive uniche e competenze inestimabili. La consapevolezza dell'importanza di ascoltare, sostenere e valorizzare le donne è cruciale per costruire un tessuto sociale solido. Solo attraverso il rispetto reciproco possiamo superare stereotipi dannosi e promuovere opportunità paritarie per tutte. Oggi celebriamo la forza, l'intelligenza e la determinazione delle donne che arricchiscono le nostre vite. Insieme impegniamoci a creare un ambiente dove ogni donna possa esprimere appieno il suo potenziale senza timori, contribuendo così a plasmare un futuro luminoso e inclusivo per tutti. Lo affermano il sindaco Giuseppe Nicola Parretta e l'amministrazione comunale di Badolato.